Grazie 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 Aspettiamo venerdì 26 giugno alle 17 all'antegnate shopping center Accosta vai Coglione Aspetta aspetta Porca puttana ma due in un giorno Ate PONTO 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 Ma che cazzo è successo? Non l'ha qua? No, ci lo faccio a vedere Non aspetta Se nemmo putto, se nemmo trick Fabio, non pazziamo Ma che cazzo è successo? Ma che è successo? Ma che cosa c'ha benzina? Cosa? C'ha... Santo Dio No Fabio, non passa, sei fatto Si passa... Ma c'è un altro vino, è pericoloso Si, si, si Guarda, andiamo, andiamo, andiamo Oh Gesù mio Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? No 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 E' un'altra cosa. Occhio Luca, Occhio Luca! Puttana Troia, che piccato dal cazzo! Scendi, 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 scendi! Come fai a guardare o a non guardare? Eh si, sei fatale! E cantarei così! Non so quel via! Ma vado, vado! Come sei ciegato! L'hai visto che cosa cosa? Coppò, questo nuovoições... Chi deadline! ... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.